Abbiamo scoperto, l'abbiamo denunciato fortemente adesso, che la Polizia Municipale comunica 9.000 manifesti abusivi però manca la notifica, cioè ai trasgressori non è stato mai detto che quel manifesto era abusivo o non messo nel posto giusto e di conseguenza la Prefettura, che è l'organo che deve poi emettere la sanzione che va dai 103 euro ai 1.032 euro a manifesto, non ha potuto procedere. Quindi qua, siccome andiamo a toccare da una parte la classe politica e dall'altra sono due organi che sentono per così dire molto la pressione di tipo politica, mi sembra quasi che c'è una connivenza e per questo l'esposto alla Procura della Repubblica. Quindi i 9.000 manifesti che mi sono stati comunicati dalla Polizia Municipale non trovano riscontro, a parte che non sono stati neanche dati tutti e 9.000 alla Prefettura, che invece mi comunica soltanto 600 verbali, ma cionostante in una nota del Prefetto mi dice che venendo a mancare il requisito fondamentale della notifica non c'è una sanzione e quindi decadono tutti. Quindi siccome per la notifica decadono entro 60 giorni, siamo nel 2014, parliamo di amministrativa, in particolare a Palermo e regionali, diciamo del 2012, quindi comunque un dato è certo, nessuno ha pagato. Grazie. Grazie. Grazie.